Sindaca, buongiorno, posso? Don Michele, si accomodi. Quale onore! Non doveva sottrarre del tempo ai poveri. Ma ci sono diversi tipi di povero, ci sono anche quelli in spirito. Io sono qui per portare la mia solidarietà per quello che ho letto sui giornali. Vedi, ho sentito troppi i commenti negativi su di lei in paese. E questo mi ha dispiaciuto. La gente tira fuori il peggio di sé. E questo mi addolora.